Signori, mi raccomando, spegnete tutte le luci, mettetevi le cuffiette, preparatevi un po' di popcorn e rilassatevi. Per questo grandissimo ritorno voglio almeno 800 mi piace, buona visione. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Uff, ho la pelle d'oca, vi giuro, perché finalmente siamo ritornati in un walkthrough, ragazzi. In questi anni mi è piaciuto molto portare delle serie che ci hanno fatto divertire e appassionare ed emozionare insieme. Oggi siamo tornati qui con Life is Strange, ragazzi. Un gioco che è piaciuto davvero davvero tanto, è stato chiamato anche capolavoro. Voglio almeno 800 mi piace per questo primo episodio. Spero che questa serie vi piaccia, ragazzi. Fatemelo sapere sotto nei commenti, fatemi sapere se la seguirete, se ci avete da giocato e cosa ne pensate, ragazzi. Una cosa importante, probabilmente all'interno del gioco ci saranno molte musiche. Io le abbasserò di volume perché probabilmente mi darà fastidio con il copyright e mi potrebbero segnalare i video, ragazzi. Quindi 800 mi piace, per favore supportatemi perché ci tengo veramente, veramente tantissimo. Signori, possiamo partire con questa nuovissima avventura di Life is Strange. Life is Strange è un'avventura narrativa influenzata dalle scelte del giocatore. Le conseguenze dell'azione e delle decisioni avranno effetto sul passato, sul presente e sul futuro. Scegli con cautela, ragazzi. È anche per questo che vi ho voluto portare questo gioco, perché è sentimentalmente intenso e mi sono già cagato addosso. Cosa sta succedendo? Mi trema il controller. Mi sembra di avere un vibratore in mano. Questa dovrebbe essere la nostra protagonista. Diciamo già in una situazione di merda, mi sembra. Siamo partiti proprio alla grande. Cosa succede? Eh, non so, dimmelo a te cosa sta succedendo. Io mi sono ritrovato qui. Forse anche te li sei ritrovata lì, dato che ti sei appena svegliata. Sì, sembra una tempesta. Bella domanda, veramente. Un adolescente. Faro. Ok, proviamo a raggiungerlo. Sì, spingiti là con tutta la potenza che hai in corpo. Ok, stiamo arrivando. Ammazza, guarda lì, mi viene l'angoscia. Sembra così reale, cazzo. Ok, qui cosa succede? Niente, non ci posso andare. Andiamo qua. Ammazza, ragazzi. Questo gioco è basato molto sulle atmosfere e sulle musiche, quindi ci riuscirà a colpire veramente, veramente molto. Questo uraga mi fa spavento. E quella è una città. Come ve l'ho detto io, praticamente. Vabbè, era un sogno. Ecco già le troiette che ci danno fastidio. Ci stanno facendo vedere molti oggetti, la pallina di carta, il telefono. Allora, vediamo un attimo. Qua, che cosa c'ho? C'ho questa foto qui, guardiamola. Perché? È bellissimo. Mi piace. Allora, leggiamo il nostro diario, se non sbaglio, ok. 10 luglio 2013. Mi hanno preso la Blackwell. Se le parole potessero ballare, questa pagina sarebbe un rave. Anche se a un rave non ci sono mai stata. Ma chi se ne? Mi hanno preso la Blackwell. Ok, perfetto. Quindi qua è citata. Questo è un po' il nostro diario. La nostra protagonista, scusate, Max. Hello, my name is Max. Mi chiamo Max Caulfield. E già dalla tenere età sapevo di voler fare la fotografa. Ho sempre osservato il mondo attraverso il mio obiettivo. Forse è un mio modo per far parte del mondo, ma a distanza, di sicurezza. Quindi questo è un po' il menu. Kate, vediamo. Non ricordo di aver visto Kate Marsh sorridere o ridere questo mese. È davvero dolce e gentile. Anche se gli altri studenti la prendono in giro per la sua campagna per l'astinenza. Nonostante la loro età, sono davvero immaturi. So che fa parte di molti gruppi religiosi, ma finché non farà una predica, a me va bene. Nelle ultime settimane è stata iper silenziosa e chiusa. Sempre in modalità zombie. Vorrei poterla aiutare, ma alla pena riesco ad aiutare me stessa. Mi chiedo se tutto quel bullismo l'abbia sfinita. Non mi sorprenderebbe. Devo cercare di parlarle più spesso. Magari invitarla per un tè o un film. Ok, quindi questa è la ragazza alla quale hanno tirato la pallina. E poi c'è Victoria Chase. Questa, secondo me, è la bulla. Perché è quella che gli ha tirato la pallina. La lettera che è una vera stronza. Mi dispiace dirlo, ma non so perché una persona ricca e bella debba essere così cattiva. Bene, a questa gli faremo un torto subito. Questo è il professore. Ok. Quindi, proviamo la macchina fotografica. Così? Oh, si è fatto un selfie. E ci siamo fatti pure sgamare. Vabbè, qua ci sta facendo la lezione. Penso che... La nostra protagonista sia un po' a metà. Cioè, non è proprio... Bullizzata, ma penso che non sia proprio ben vista da tutti. Ecco. Questa è la prima impressione. Corso di fotografia. Sì. Processo che diamo vita ai primi autoritratti. Lo sta chiedendo a me? Mi lascia pensare. Oh, la puttanella. Mamma mia, un bello schiaffone. Ok, suonata la campanella. Ok, va bene. Io praticamente ce l'avrei già la foto. Io quella foto gliela vorrei consegnare. Posso? A lei non piace. Allora, ragazzi, facciamoci un attimo un giro. Incisioni. Cosa significa? Foto. Ah, strano. Rachel Amber, ha fatto una foto. Ma che bello. Se possono fare le foto, non sapevo. Ah, pure un trofeo. Fantastico. Questa era la roba di quella riccona maledetta. Guardiamo. Ma vaffanculo, veramente. Ovviamente, le cose di Victoria devono essere più belle, più nuove, più costose. Quindi lei ovviamente vincerà. Madonna, guardate quanto costa questa macchina fotografica. Ovviamente lei vincerà il concorso perché ha la possibilità di avere oggetti più costosi, probabilmente. Pallina di carta. Guarda. Ah, ok. Questa era la presa per il culo che diceva prima. Lei probabilmente, essendo molto religiosa, ha voluto fare una sorta di... di veto, voto. Parliamo con lei, vediamo se possiamo darle una mano. Sì, c'è anche il crocifisso lì davanti. Spero di non averti imbarazzata. Oggi sei silenziosa. Ti va un tè? Sento quello. Vuoi andare a prendere un cuore di tè e... Grazie, ma non oggi. Ho bisogno di andare a lavorare. Non preoccuparti. Oh, mio Dio, c'aveva la voce tipo rotta dal pianto. Va bene. Posso dare un calcio nel culo a questa puttana? Parliamo col professore. Mr. Jefferson, posso parlare con te per un momento? Sì, scusami. Non, Victoria, scusami. Non mi lascio a una delle stelle future di fotografia evitare la portata del suo filmo. Dove ho bisogno? Non penso che sia così grande. Max, sei un miglior fotografo che un lipo. Ora, vedo che è una droga di ascoltare un altro uomo a te. Ma la vita non aspettare a te giocare. Sei vecchio, il mondo è il tuo, bla bla bla, certo? Ma hai un dono. Hai il fervo per prendere immagini Per frutturare il mondo solo in modo che tu l'avvicinati Allora, tutto che ti necessite è la coraggio di share il tuo gift con gli altri E' quello che separa l'artista da l'amatero Benvenuta nel mondo reale Cosa sei tu? Mortacci tua Quella dietro meglio, quella dietro molto meglio Vado a avere bisogno di una pausa Ok, andiamo in bagno Ecco la presentazione del gioco, ragazzi Di Square Enix Life is Strange Ecco, qui parte una musica sicuro E probabilmente la bascerò, ragazzi Perché non ho paura che mi dia veramente dei problemi con il copyright Anche se sarà una musica bellissima Probabilmente ci parlerò anche sopra, ragazzi Episodio 1 Chrysalis Chrysalis Non lo saprei Qui io potrei praticamente farmi gli affari un po' di tutti Poster persona scomparsa Guardiamo, allora Missing Pare che sia scomparsa da mesi C'è una ragazza scomparsa Vista l'ultima volta a Arcadia Bay Data della scomparsa 22 aprile, altezza Tatuaggio di un drago sul polpaccio Una stella all'interno del polso sinistro Quindi è scomparsa una ragazza Probabilmente da questa scuola Dove stanno i bagni Qua c'è quello dei maschi E qua c'è quello delle ragazze Quindi entriamo Non so quanto dureranno gli episodi, ragazzi Voglio andare avanti finché posso, sinceramente Qui, mi devo lavare la faccia Usiamo il lavandino Ma no, ma perché l'ha strappata? Solo a me piaceva, ragazzi, quella foto No, ditemelo sotto nei commenti A me piaceva quella foto I hate Victoria Chissà chi l'ha scritta Forse lei è bella quella farfalla che è entrata Ok, bro, non hai una foto come questa ogni giorno Esatto Una farfalla sopra un secchio Facciamogli una foto Una farfalla così bella Sopra un secchio così brutto Potrebbe essere un bel contrasto Ok Forse questa è la nuova foto Cosa succede? Ma Oddio Mi sono venuti a cercare No Il bagno tuo è dall'altra parte Ah, sì? Sei tu il capo E questo? Non mi hanno beccata Non mi hanno beccata Non ci credo, ragazzi Nathan Prescott è un punk Che pregge come una piccola E si parla con lui Non so chi è O chi ti stai messo Non ci credo, ragazzi Non ci credo, ragazzi Non può essere vera Cioè Gli ha sparato Ma cosa sta succedendo? Un attimo Calmi Un altro sogno Gli ha tornato Ha prenduto il futuro Ha sparato Quindi era vera Ho già ascoltato questa lezione Esatto E se il telefono di Vittoria Ringa Questo è vero Molto bene Non posso credere Se se lo faccio Non vale che vada fino in fondo Posso davvero riavvolgere il tempo? Vendete Vittoria Perché Arbus? L2 per riavvolgerla Quindi se io premo R2 E riavvolgo il tempo Posso Non far rompere la mia macchinetta fotografica Per favore Perché Probabilmente Devo riconoscere Se questa cosa è vera Ah, ragazzi Ah, ragazzi Questa è una bella roba E se adesso io per esempio Mi faccio un selfie E succede la stessa cosa Esatto, perfetto Esattamente la stessa cosa Quindi adesso io se rispondo alla domanda Che ha fatto prima Ok, ovviamente Ovviamente la ragazza non sarebbe morta Potremmo andarla a salvare Se ci muovessimo Devo correre subito in bagno a controllare Ok, posso saltare le domande che mi fa Per fortuna Non mi sento bene Devo andare in bagno Non mi sento bene Oh santo al cielo Eh, va bene, ok Beh, ma c'è tempo per andare a salvare Forse Ok Quindi Se io Probabilmente Riavvolgo Come mi ha detto lei E do la risposta giusta Per riavvolgere più velocemente Tengo premuto R2 Fino al pallino Ok Quindi adesso do la risposta esatta Alla domanda Ok, perfetto Eh, sì Grazie Mi sono messo a studiare Un pochino Oh puttana Puttana Te l'ho buttata al culo E hai goduto Ok, dobbiamo andare in bagno Ma tanto dovrò parlare con questo professore dannato Parliamoci di nuovo John Lennon disse Troppo facile così Eh, allora Calmi ragazzi Sembra una figata questa Ma secondo me potrebbe essere un'arma a doppio taglio Nel senso che Penso che difficilmente tornerò indietro Nelle scelte che prendo Perché praticamente Potrei fare O la cosa giusta o la cosa sbagliata Ma la cosa sbagliata O la cosa giusta Si potrebbe vedere anche successivamente nel gioco E quindi non è detto che io abbia realmente fatto la cosa sbagliata È un po' difficile da capire in realtà Però vedremo come funziona Penso che comunque Continuerò a fare le mie Le mie scelte come ho sempre fatto Perché hai rotto di nuovo quella fotografia Esatto Ok Sta succedendo esattamente la stessa cosa Non so che cazzo devo fare Allora Guarda Allora c'è questo Mi serve un martello Sposta Oddio Ecco il martello Prendi Prendi Campana Campana Martello Martello Falla suonare Ok Ok Ce l'abbia fatta Questo è un matto ragazzi Questo è un matto Ma che cazzo succede fra questi due Un'altra giornata di merda Adesso è un coglione Quindi che ti devo dire Eh che cazzo devo prendere Esci Adesso esci da sto bagno In maniera rapida Grazie Che c'è sto testa di cazzo Che cazzo vuoi Esatto Vai a spegnere gli allarmi Con tutto il rispetto Per gli spegnitori di allarmi Ovviamente però Questo qui mi aveva staccato Un po' le Mi aveva staccato Un bel metro Un bel metro di minchia Oh immagino Con quella faccia Io ragazzi Lo denuncerei Si Si Era in un bel metro Parlava con una gun Ho visto tutto Era babblando Come una scuola Ok Scusate 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 Non lo vedi Non lo vedi Non lo vedi Non lo vedi Stavo Quindi adesso probabilmente andrò io nella merda per aver detto questa cosa e non neanche lui Vedremo cosa succede Per esempio questa icona indica che la tua azione avrà conseguenze, puoi avvolgere il tempo per cambiare l'esito, assolutamente, va benissimo così ragazzi Olè, Nathan Prescott è pregato di venire nel mio ufficio, grazie Foto Ah, forse mi dà un altro tofeo? Oh sì, ho guadagnato un altro tofeo, allora Chi è questo? Ti va un caffè? Warren, ho bisogno di una scusa per non studiare, per favore, ricorda guardare Necromantica Ehi, Mad Max, spacchiamo tutto, aspetta, devo studiare per non ignorarmi Ciao Max, puoi portarmi la chiavetta, ho bisogno di info e spazio Sono in ritardo, giornata folle Ci vediamo nel parcheggio, sarò quello figo, vedrai, sono pronta a far foto, tra poco lo spero Ok, quindi questo dovrebbe essere un amico Queste sono le foto dell'episodio Allora, ah ok, questi Diciamo che Me li indica Quindi, allora Ci dovrebbe essere uno skate Uno scoiattolo Quello non so cosa sia Un camper Allora, Nathan Prescott Questi due non mi interessa veramente leggerli Mi stanno veramente sui coglioni Però qui ragazzi Abbiamo uno skateboard, uno scoiattolo Quindi vediamo se qua in giro c'è qualcosa del genere Però alla grande E se faccio una foto? Ma no ragazzi, no Ma che cazzo? Vabbè, ho fatto una foto ragazzi A sto poveretto che Vabbè, che si è fatto male Incredibile veramente, non pensavo Nel prossimo episodio Puttana vigliacca guerra Ne si sta parliando Dei pugni in faccia per me E io sto scappando Don't even try to run Don't even try to run